Il miglior modo per ricostruire all'interno del Salone della Ricostruzione è farlo in maniera integrale, per questo l'azienda edilizia integrale con il suo prodotto di punta che è Wise House, un suo marchio registrato con il direttore commerciale Andrea Giannotti. Cosa significa costruire con edilizia integrale e soprattutto in modo saggio? Significa evitare gli errori del passato, come si fa a evitare gli errori del passato? Seguendo il cliente e il progetto dall'inizio alla fine. Noi abbiamo un ufficio tecnico interno che insieme al cliente studia il miglior progetto da realizzare e squadre nostre internamente che seguono il progetto dall'inizio alla fine. Noi costantemente sviluppiamo sistemi nuovi per andare a fare abitazioni con prestazioni sempre più elevate, sempre più sicure, a costi sempre più accessibili. Noi certifichiamo tutto il processo realizzativo appunto, dalla fase del progetto fino alla consegna e seguiamo il cliente anche nel post vendita con un libretto d'uso e manutenzione e una manutenzione programmata. E poi utilizziamo l'acciaio, una struttura resistente, flessibile e che ci permette spessori ridotti. E poi utilizziamo sistemi a secco che anche nell'ottica di un risparmio energetico ci danno un altissimo potere fonoisolante, acustico e ci permettono di ridurre moltissimo i tempi di cantiere e l'utilizzo di macchinari come gru, l'utilizzo dell'acqua e l'utilizzo anche di manodopera molto specializzata. La domanda che fanno tutti è quanto costa. Se noi consideriamo l'investimento totale dell'abitazione abbiamo un sensibile riduzione dei costi. Se noi invece ci fermiamo al quanto mi costa realizzarlo, probabilmente rispetto a un tradizionale fatto secondo le norme di legge costa un po' di più. Fatto secondo le nostre prestazioni, quindi una prestazione in classe A minimo, siamo sui costi molto più competitivi. Vivibilità e sicurezza. Le persone che vivono all'interno di questi ambienti la prima cosa che notano è la salubrità dell'ambiente. Perché si entra in un ambiente che si sente che è sano, perché l'aria che si respira è un'aria trattata da macchinari. Si sente che c'è una temperatura costante, non generata da impianti, ma generata dalla protezione che l'imbolicro ha. E si sente la sicurezza, perché comunque abbiamo una struttura in acciaio che ci permette una forte flessibilità. Quindi anche di fronte a un sisma, come purtroppo qui dove siamo e negli ultimi giorni abbiamo sentito dire, è la prima cosa a cui pensiamo quando ci avviciniamo a una nuova realizzazione.